Per la creazione di quello che è stato individuato come primo piano del verde della città di Firenze, dove ovviamente sono previsti tutta una serie di interventi che vanno a integrare quella che è la situazione attuale. Perché ovviamente non è che si possono ricreare le città, anche perché sarebbe un oltraggio, abbiamo delle città che sono stupende, però ovviamente nel creare delle situazioni che ne migliorino la vivibilità. E appunto hanno fatto questo tavolo di lavoro con vari esperti, tra cui chi si occupa di microclima, siamo stati coinvolti anche noi, urbanisti ovviamente, pianificatori. E quant'altro ci sono anche botanici, perché anche per esempio su questo discorso dell'inverdimento delle città, però è un discorso molto complesso, perché si parla di piantare appunto l'albero giusto, nel posto giusto, ci deve essere sempre una certa variabilità anche delle specie che vengono piantate. Quindi è un sistema molto complesso, piante che devono essere ben adattate, anche che si adattino bene all'ambiente, che abbiano certe caratteristiche in termini anche di resistenza, gli stress idici a cui sono sottoposti e quant'altro. Perché voglio dire, consideriamo che spesso nelle città, durante poi i periodi più critici, la risorsa acqua è una risorsa che è molto, diciamo, carente poi in città. E quindi anche le specie che magari vengono poi dopo piantate devono avere certe caratteristiche per riuscire a resistere a queste situazioni. Quindi è fondamentale uno sforzo congiunto, integrato e che si mettano in atto appunto delle azioni dove vengano coinvolte più figure e che possano ciascuna per la sua parte dare un contributo effettivamente utile. Perché poi c'è anche tutto un altro aspetto, sempre riferendomi anche al discorso delle piante, l'aspetto legato anche alle allergie, per esempio. Questo è un altro aspetto che riguarda tantissimo le persone che vivono nelle aree urbane. Quindi la scelta deve essere ponderata considerando tutta una serie di aspetti. Sulle piante conosciamo bene gli effetti benefici forniti, però va bilanciato bene il loro utilizzo in un ambiente che è particolarmente sensibile, e soprattutto in un ambiente dove vive la maggior parte della popolazione e quindi a cui è esposa tutta una serie di situazioni. Ok, grazie mille, è molto chiaro. Grazie anche a te Beatrice. Sì, grazie Beatrice per il tuo intervento, sicuramente la questione della multidisciplinarità è fondamentale ed è motivo anche per cui siamo qui oggi con Marco Morabito. Ilaria, Ilaria Bozzi, anche tu se vuoi venire in video. Mi sentite? Sì, mi sentiamo. Vieni in video Ilaria per favore. Sì, un attimo. Mi vedete? Non ancora. Non ancora. Adesso sì. Un po', però sì. Vabbè, sei un po' contro luce, ma va bene, va bene. Allora, innanzitutto salve e buongiorno. Io, a me sorta una curiosità per quanto riguarda più che altro il futuro, in quanto se ho ben appreso, una delle cause principali del fenomeno isola di calore è la cementificazione del suolo rispetto magari alla prevalenza di aree verdi nelle zone rurali. Con le nuove ricerche e le nuove conoscenze, di certo, o almeno si spera, che nel futuro ci siano dei miglioramenti dal punto di vista climatico per il bene della città, quindi per il microclima urbano. Ma per quanto riguarda la progettazione, mi viene da pensare ad esempio Dubai come città, l'evoluzione tecnologica porterà a ridurre il verificarsi di queste isole di calore? Ora, l'esempio che hai fatto è un esempio molto interessante, perché effettivamente si parla di una città che poi alla fine ha investito tanto su questo aspetto. Io credo che un po' come in tutte le cose è il giusto bilanciamento che dovrebbe portare migliori risultati. Non si può pensare anche esclusivamente a delle città totalmente verdi, anche perché sennò non sarebbero probabilmente più città. Quindi trovare il giusto equilibrio tra densità di verde e soluzioni tecnologiche legate anche all'utilizzo di materiali più performanti o di morfologie anche proprio delle città più performanti e quella che potrebbe portare ai migliori risultati. Il discorso è che quando si parla di città che sono in crescita, in sviluppo, in quel caso lì è sicuramente più semplice provare a progettare le soluzioni migliori sulla base delle conoscenze del momento. È molto più difficile invece intervenire laddove ci sono anche delle caratteristiche culturali legate proprio all'ambiente città, come praticamente si verifica da noi, che vanno anche rispettate e con le quali poi bisogna riuscire a trovare l'equilibrio giusto per integrarsi. E quindi per riuscire poi a centrare l'obiettivo che nel nostro caso potrebbe essere quello di risolvere l'aspetto delle anomalie termiche con le quali appunto dovremmo fare sempre più i conti, lo stiamo già facendo, ma in un prossimo futuro la situazione purtroppo potrebbe essere ancora più complessa. Per rispondere alla tua domanda direi di sì, è fondamentale lavorare su più fronti, sicuramente quello di prevedere delle strategie di invertimento delle nostre città il più possibile sostenibile, ma lavorare anche su aspetti tecnologici, quindi laddove è possibile intervenire sulle caratteristiche dei materiali, per non parlare poi dell'efficientamento energetico e quindi diciamo edifici più performanti e che possono anche magari, molto si sta già anche facendo, però limitando al massimo i consumi energetici, elettrici e quindi l'utilizzo del condizionatore per esempio in estate, semplicemente perché l'edificio magari è costruito in modo sostenibile e più efficiente, quindi direi bisogna riuscire a trovare il giusto compromesso tra i vari elementi che possono essere messi in campo. Ripeto però, rispettando molto anche l'aspetto su cui vogliamo intervenire, perché appunto c'è una sostanziale differenza tra una città appunto come Dubai e una invece delle città che caratterizzano il nostro paese. È stato chiarissimo, grazie mille, grazie anche per la lezione. Grazie a te. Grazie a te. Grazie Ilaria. Passiamo adesso alla domanda di Vincenzo Arciuolo. Buongiorno, mi sentite? Sì, vieni in video. Sì, sì, mi vedete? Sì, sì. Allora, io vorrei fare una domanda. Io ho vissuto due anni a Torino, nonostante ci sono numerosi parchi urbani, c'è la città al quinto posto in Italia per verde, a 7 chilometri di verde, c'è il parco del Valentino con 42 ettari di verde, su 51 parchi in toto, ci sono grandi viele alberati, tipo Corso 2 degli Abbrozzi, Corso Galileo Ferraris, architetture molto verdi, 25 verde. Rimane comunque una delle città più inquinate d'Italia e come abbiamo visto con grandi differenze di temperature tra il centro della città e le zone limetrofe e anche con l'intensità dell'esodo di calore tra le più elevate in Italia. Come mai, nonostante questo impegno per il verde, comunque non si hanno miglioramenti? Come si potrebbe migliorare questa situazione? Bella domanda. Sì. Allora, la città di Torino per l'appunto, guarda, è una di quelle che anche sulla base del lavoro che abbiamo fatto è quella, ora considerando la città metropolitana, però considerando invece il comune principale della città metropolitana di Torino è quella che appunto dal nostro studio è dove era stata osservata l'intensità dell'isola di calore più elevata, ma soprattutto era quella che mostrava la classe, quella diciamo più critica, caratterizzata da appunto elevata densità di consumo di suolo e bassa copertura arboria più rappresentata proprio nel nucleo metropolitano. Questa rappresentava il 50%, però bisogna anche, cioè il 50% di tutta la superficie comunale del Cor, però bisogna anche considerare che la città di Torino, un po' anche per quello che dicevi, ha anche nelle zone limitrofe delle zone che sono particolarmente fresche, che sono anche molto verdi e che quindi esaltano anche di più questo differenziale termico che proprio abbiamo osservato noi, perché quando si fanno questo tipo di analisi, anche la ragazza che ha fatto l'intervento prima parlando della città di Dubai, il… scusami non ricordo il nome della ragazza precedente, comunque è fondamentale considerare tutto il complesso, cioè una città come Dubai ha una zona limitrofa al Cor periferica che è molto calda e quindi che tende anche a attenuare un po' diciamo il delta termico che si viene a creare tra il Cor, nonostante magari poi il Cor può essere anche… la temperatura nel centro può essere anche molto alta. Nel caso di Torino succede un po' l'opposto, cioè ha una periferia che è molto verde, molto fresca e che tende a aumentare ancora maggiormente questo differenziale termico. Quindi il fenomeno dell'isola di calore deve essere sempre visto diciamo nel modo più ampio possibile, considerando non solo ciò che si verifica effettivamente proprio nel Cor, che è quello che noi poi evidenziamo di più, ma anche quello che si verifica nei dintorni. C'è uno studio recente dove praticamente gli autori in modo un po' provocatorio hanno, in sostanza diciamo riassumo, hanno in modo molto semplice, hanno detto che rendendo più urbane, quindi consumando più suolo nelle zone limitrofe e periferiche dovremmo iniziare ad avere un'isola di calore, è un paradosso no? Un'isola di calore che è meno marcata, sì risolviamo il problema cioè del delta di temperatura, ma non risolviamo certo il problema dell'accumulo di calore che va a, cioè in sostanza ingrandiamo ancora di più la città proprio alla fine. Quindi è giustissimo quello che dici, come intervenire, perché anche la città di Torino, diciamo nel bilancio energetico hai visto che una componente importante è quella anche del contributo umano in termini di inquinamento e una città come Torino, ma anche Milano, sono interessate anche da fenomeni importanti di inversione termica, quindi dal punto di vista anche meteorologico e che quindi favoriscono un ristagno anche di inquinanti nei bassi strati che vanno ulteriormente ad aggravare il fenomeno, tant'è vero che se ricordi un po' quello che ho fatto vedere rapidamente, poi tanto le avrete queste sladi disponibili, nelle città costiere spesso il fenomeno è diverso perché è fortemente mitigato anche dall'effetto del mare, dal flusso, diciamo dalla brezza che si crea naturalmente che tende a mitigare fortemente questo fenomeno. Quindi quello, il fatto che comunque siano soprattutto le città dell'entroterra, salvo poi casi particolari come può essere la città di Bari o quella di Napoli, soprattutto perché si estendono molto anche nell'entroterra, il fatto che siano soprattutto le città dell'entroterra a lamentare, a soffrire di più di questo fenomeno non è un caso, anche perché la città dell'entroterra ovviamente è circondata totalmente poi da una situazione che non fa altro che alimentare ulteriormente il fenomeno. Prima avevo accennato anche all'indice di forma, allo shape index, dove praticamente noi abbiamo visto che le aree caratterizzate da anomalie termiche si caratterizzano proprio per il fatto di avere delle forme molto più circolari, molto più compatte, che quasi come se tendessero in sostanza a custodire un po' diciamo quella bolla di calore, rispetto invece ad aree caratterizzate da anomalie termiche negative, cioè quelle più fresche, che invece hanno delle forme completamente diverse, molto più allungate, quasi come diciamo a favorire di più una sorta di dispersione e un effetto diverso proprio rispetto, una dinamica diversa, una morfologia diversa. Quindi per rispondere alla tua domanda, la città di Torino purtroppo è una di quelle che lamenta di più il fenomeno per tutta una serie di motivi legati anche alla componente antropica, quindi all'inquinamento, a una componente geografica molto forte che come ti dicevo porta anche a questi fenomeni di inversione e al fatto anche di essere alimentata da una periferia, da una zona rurale che è molto fresca e che quindi alimenta ancora di più il fenomeno. Va bene, grazie Miel e grazie anche per la lezione. Buongiorno. Grazie a te Vincenzo. Grazie Vincenzo. Raissa Campiri. Sì, mi sentite? Sì. Si vede? Ok, allora io ho una domanda in merito alle aziende, diciamo alle industrie principalmente. In pratica quello che volevo chiedere è che ultimamente il governo stava dedicando tanta attenzione ai cambiamenti climatici. Questi hanno dato tantissimi bonus e io volevo chiedere se le aziende possono tradurre l'ugenza in aziende del cambiamento climatico? Se sì, in che modo si potrebbe fare questa cosa? Ecco, su questo ora non so se riesco a risponderti in modo preciso, però ho personalmente un interesse molto forte perché come avevo detto prima, proprio adesso stiamo ultimando uno studio che stiamo facendo proprio su tutti i siti industriali, ovviamente dell'area metropolitana di Firenze perché è quella su cui ci siamo concentrati maggiormente e perché sono proprio quelli che anche sulla base delle analisi che abbiamo fatto sono quelli che presentano almeno dal punto di vista superficiale le anomalie più importanti all'interno del contesto urbano, oltre ad altre situazioni particolari come per esempio anche quello delle ferrovie su cui concentreremo molta attenzione, anche perché quello poi è un aspetto ancora più complesso di interesse perché poi le ferrovie spesso attraversano un po' tutte le città, arrivano nel centro delle città e quindi sono delle zone diciamo di particolare interesse, però ecco quello delle industrie è un aspetto molto importante su cui bisognerà e anche appunto il governo appunto ha dato già delle direttive, delle indicazioni precise e che dovrebbe portare a un coinvolgimento più attivo anche proprio di chi poi gestisce le industrie che dovrebbe cercare di affrontare il fenomeno e proprio su questo appunto noi abbiamo incentrato il nostro studio un po' cercando proprio di fare delle simulazioni nei siti industriali, abbiamo proprio studiato i singoli edifici industriali e l'intorno che li caratterizza perché poi sul sito industriale in sé grandissimi interventi, non so fino a che punto ci si può spingere se non lavorare proprio sulle caratteristiche degli edifici e non so questo fino a che punto ci si può spingere probabilmente su alcuni interventi relativi ai tetti o quant'altro probabilmente si può arrivare, però tanto di più non credo si possa fare, non si possono nemmeno ridurre quantitativamente, però sul contesto circostante su questo si può intervenire quindi metterli in condizioni di poter favorire determinate superfici piuttosto che altre o diciamo alcune strategie di intervento è possibile programmarle che ne so magari favorire più superfici erbace negli intorni piuttosto che arbore oppure proporre delle soluzioni che possano andare quantomeno a mitigare la situazione nell'intorno del sito industriale che sono dei chiari oramai hotspot, questo è un qualcosa su cui diciamo si stanno facendo dei primi passi e poi riuscire a passare all'atto pratico probabilmente è sicuramente più complesso, però mi sembrano già quantomeno diciamo il fatto di aver sollevato il problema a livello politico mi sembra un primo passo e nel nostro lavoro stavamo proprio cercando di fornire delle informazioni, è un lavoro che stiamo per pubblicare sulla rivista Urban Climate, stiamo cercando di fornire delle informazioni concrete dicendo quanto intorno a determinati siti industriali posizionati in varie zone hotspot della città dell'area metropolitana di Firenze, che tipo di interventi proporre in termini percentuali, quanto verde, che tipologia di verde dovrebbe essere inserita in quell'intorno per avere un effetto, perché abbiamo fatto delle simulazioni vedendo come si modificava la temperatura superficiale nell'area dove ricade l'edificio industriale, simulando dei cambiamenti in termini di verde, in termini di albedo, sullo scavifactor purtroppo può intervenire fino a un certo punto perché l'edificio non lo puoi diciamo modificare in modo sostanziale, però ci siamo accorti che aumentare di un 20% il verde nella zona circostante riducendo di un X percentuale il consumo di sole e tutto può portare a dei contributi veramente importanti, diciamo poi in sostanza uscendo addirittura poi dopo fuori dalla zona di hotspot che tipicamente li caratterizza. È comunque un aspetto molto complesso ma credo di estremo interesse visto che sono delle riconosciute zone di hotspot intraurbano, quello delle aree industriali. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a te. Molto bene. Allora, ancora cinque domande. Agnese Botrugno. Sì, buongiorno. Purtroppo non posso attivare la videocamera perché ho problemi con la connessione. Non ti preoccupare, Agnese, non ti preoccupare. Ti ascoltiamo bene però. Allora, prima cosa di tutto volevo ringraziare appunto per la lezione perché è stata molto molto interessante e soprattutto è traplato quanto sia importante la figura dell'architetto per far fronte a questa condizione climatica un po' particolare. E poi avevo una considerazione, una domanda, una considerazione per quanto riguarda appunto il consumo di suolo perché appunto io sono di giù, sono di lecce e nonostante questo problema del consumo di suolo sia molto noto si continua diciamo a edificare zone non ancora appunto costruite piuttosto che preferire magari il consumo di suolo zero perché appunto il problema delle zone già urbanizzate con edifici abbandonati comunque rimane e non vengono appunto sfruttati questi edifici che magari potrebbero essere utilizzati per altro ma vengono continuate appunto ad edificare zone libere diciamo. Quindi questo potrebbe essere una problematica da affrontare perché è noto non solo giù ma è un po' tutta quanta l'Italia e non solo. Quindi appunto era questa una considerazione, volevo chiederle appunto che cosa pensavo di questa problematica. E poi un'altra domanda era appunto durante il corso abbiamo affrontato diciamo un po' l'argomento del Green Deal insomma di fondi che verranno diciamo indirizzati verso la transizione verde e quella digitale che comunque sono due temi importantissimi per quanto riguarda il futuro. E volevo chiederle appunto se secondo lei questo connubio tra digitale e verde potrà far fronte alla problematica delle isole di calore magari con migliori materiali, materiali intelligenti oppure con soluzioni eco per abbassare le temperature degli ambienti eccetera. Due aspetti particolarmente interessanti. Allora quello degli edifici non utilizzati è assolutamente sì. Purtroppo questo è un argomento dibattuto già da diverso tempo e credo che solo la politica diciamo può cercare di cambiare questa tendenza. Io prima avevo portato qualche dato un po' sull'aspetto del consumo di suolo. Su questo ci sono delle analisi molto dettagliate fatte appunto da Ispra. Ci sono rapporti che partono dal 2015 fino al 2020. Ve ho dato un po' di numeri ma si parla di due metri quadrati consumati al secondo stimato a livello italiano. Quindi sono veramente dei numeri incredibili dove si va purtroppo a sottrarre sempre più terreno verde dal nostro territorio per fare spazio a delle esigenze che in realtà non sono nemmeno delle esigenze perché consumando ulteriormente suolo laddove un po' come dicevi anche te in realtà ci sarebbero già diverse infrastrutture che per tutta una serie di motivi molto complessi in cui non mi c'è dentro perché non è nemmeno di mia competenza che però sono disponibili ma non utilizzati e quindi in questo c'è qualche segnale anche politico di intervento ma secondo me purtroppo non ci siamo ancora non è sufficiente per cercare di invertire questa tendenza. Sul secondo punto io invece sì credo che siano due situazioni quella della transizione verde della digitalizzazione che dovranno andare di pari passo dovranno interagire sempre di più perché credo che integrare e bilanciare il più possibile diciamo gli interventi che non possono essere unidirezionali cioè risolvere il problema con un'unica soluzione cioè il verde è un qualcosa che aiuta è fondamentale ma non è certo l'unica strategia per risolvere il problema isola di calore o tanti altri problemi che riguardano le aree urbane è sicuramente una soluzione che ha tantissimi risvolti positivi e fondamentali e che infatti si stanno tenendo in considerazione quindi appunto la transizione verde è una strategia oramai riconosciuta e che è fondamentale dobbiamo seguire che però combinata con la digitalizzazione e quindi le tecnologie che saranno disponibili prima Lorenzo parlava anche dell'utilità dei dispositivi mobile ma anche tutte le tecnologie legate alle caratteristiche dei materiali su cui si sta lavorando parecchio e che possono dare il contributo migliore se integrati in un contesto più ampio che va praticamente a ciascuno per la sua parte e con il suo peso a contribuire a ottenere poi il risultato migliore per il quale appunto diciamo si sta lavorando e ci si sta muovendo con le scelte politiche e con poi le attività concrete messe sul campo quindi la combinazione dei due aspetti a cui facevi riferimento è fondamentale credo che sia la soluzione vincente tecnologie e verde digitalizzazione e verde grazie mille grazie a te grazie Agnese per la domanda molto molto interessante ci sarebbe da parlare molto infatti infatti però diamo spazio ad altre domande degli studenti che hanno alzato la mano la prossima è Cristina Burgu Cristina ci sei? sì sì buongiorno riuscite a vedermi ti sentiamo vieni in video Cristina che è più bello vedervi ecco si vede sì sì buongiorno salve allora lei ha parlato di diversi calcoli di intensità e bilancio energetico e un attimo scusatemi perché ho anche problemi con la lingua non parlo molto bene si capisce benissimo è fatto ok allora quanto qual è il periodo migliore dell'anno per il calcolo delle isole di calore urbano in Italia e quanto possono essere utili per predire anche i futuri mutuamenti del clima? benissimo domanda pertinente no 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 è chiara sei stata chiarissima allora dipende dal tipo di studio che vogliamo impostare cioè nel senso per quel che riguarda lo studio dell'isola di calore atmosferica non so se ricordi nella presentazione quindi per la canopy layer urban in Thailand in quel caso lì è noto che il fenomeno è maggiormente evidente durante il periodo invernale tant'è vero è proprio quando è stato messo in evidenza anche diversi anni addietro e durante il periodo notturno ma questo è legato fondamentalmente proprio alle caratteristiche degli elementi che costituiscono la città quindi se uno vuole evidenziare il fenomeno isola di calore atmosferico è giusto che si concentri soprattutto sullo studio del bilancio di energia nel periodo invernale privilegiando soprattutto il periodo notturno il fatto per cui ci si concentri soprattutto sul periodo estivo è semplicemente perché poi semplicemente si fa per dire però comunque è perché laddove l'impatto in termini soprattutto di sulla salute della popolazione ma mi spingerei anche più in là l'impatto economico in termini anche sulla produttività dei lavoratori su questo ci sono tanti studi che hanno dimostrato come l'impatto economico in termini di riduzione della perdita di produttività legata al caldo sia fortemente impattante soprattutto quando il fenomeno caldo inizia a essere stressante cioè mentre l'inverno almeno alle nostre latitudini è una situazione mitigante addirittura piacevole o addirittura che può permetterci di ridurre i consumi energetici ad esempio legati al riscaldamento d'estate stressa le persone crea un impatto dal punto di vista sanitario importante in termini anche purtroppo di mortalità consumi energetici incredibili e quindi è il motivo per cui spesso ci si concentra sul periodo estivo se poi invece si vogliono studiare il bilancio dell'isola di calore però dal punto di vista di impatto a livello superficiale in questo caso qui lavorare sul periodo estivo è la soluzione migliore semplicemente perché questo tipo di isola di calore è fortemente condizionata dalla componente radiativa solare e soprattutto durante il periodo diurno non so se ricordi quel grafico dove avevo fatto vedere la temperatura dell'aria e la temperatura di superficie come durante il periodo notturno la differenza si annulla mentre invece durante il periodo diurno è dove hai la maggiore differenza di tanti gradi e quindi è dove il fenomeno è più attivo se poi consideriamo anche che in estate durante il periodo diurno è proprio quando la popolazione è più attiva perché lavora e quant'altro e quindi capisci bene che durante il periodo estivo effettivamente per questo tipo di studi è fondamentale cercare di comprendere meglio le dinamiche che si mascherano dietro questo fenomeno non so se sono riuscito a risponderti sì sì molto chiaro grazie mille per la risposta anche per la lezione buongiorno grazie Cristina adesso passiamo alla domanda di Alessia Capuani sì buongiorno mi vedete? sì sì ci vediamo allora l'anno scorso diciamo si è parlato di come i mesi di lockdown abbiano influito e ridotto l'inquinamento climatico anche a livello in qualche modo la pandemia ha avuto delle ripercussioni sul problema del consumo del suolo oppure su queste bolle di calore sia nelle città italiane quindi che ha nominato prima come magari Milano, Torino o Prato e magari non solo e se noi come futuri architetti ma soprattutto proprio come persone quindi come popolazione possiamo dare un contributo per un minimo contributo per il problema domanda molto interessante domanda molto interessante alla quale diciamo non ti so dare una risposta precisa perché non abbiamo appunto ancora fatto uno studio incentrandolo proprio sul periodo appunto questo che ci ha purtroppo interessato relativo al lockdown posso dirti che per quanto riguarda in realtà l'aspetto degli inquinanti non è sempre vero il discorso che appunto che hanno avuto cioè che c'è stata una riduzione tant'è vero c'è un lavoro pubblicato anche da dei colleghi del CNR che ha mostrato come in diverse città italiane in realtà questa riduzione significativa non si è verificata addirittura c'è stato un aumento di alcuni inquinanti per quanto riguarda il discorso l'impatto dal punto di vista delle anomalie termiche introrbane mi viene da nonostante non abbia dei dati esatti però è uno spunto molto interessante questo relativi proprio al periodo a cui facevi riferimento però mi viene da pensare che il sistema climatico e il microclima urbano ha comunque una inerzia cioè nel senso non basta non basterebbe un anno tra virgolette di stop per risolvere il problema anche perché comunque poi la popolazione continua a vivere regolarmente anzi nel caso nel caso nostro è stata ora durante il periodo estivo effettivamente la situazione poi era anche migliorata l'anno scorso però se per periodo caldo si intende poi un periodo molto più ampio quindi aprile maggio giugno la popolazione è stata molto più costretta a restare negli ambienti indoor e quindi comunque anche a consumare molto di più a utilizzare condizionatori e quant'altro anche se devo dire poi l'estate scorsa non è stata delle più malvagie dal punto di vista tecnico però c'è stato maggior consumo nel senso no sto proprio provando a ragionare quindi diciamo da quel punto di vista lì non è detto che il fatto di essere stati costretti a diciamo a essere meno attivi in ambiente outdoor può aver contribuito tanto di più a ridurre dal punto di vista di impatto sul traffico e quant'altro questo sicuramente questo sicuramente quindi come componente antropica da quel punto di vista lì sui consumi energetici probabilmente no fermo restando che considerate che comunque il sistema globale climatico ha un'inerzia anche quella a livello locale dove non basta un anno o cinque anni di stop per risolvere il problema ma è un problema che purtroppo oramai è avviato attivato e che invece come dicevi te chi si occupa di pianificazione tutti quelli che intorno devono lavorare per mitigare questa situazione possono dare un contributo importante cioè ora è il momento in cui dobbiamo adattarci conviverci e cercare di migliorare il più possibile per poi ricreare le condizioni per le generazioni future di maggiore vivibilità di un ambiente verso il quale c'è la massima attenzione per il solo fatto che la maggior parte della popolazione vive proprio in questi in questi ambienti però è uno spunto interessante ecco quello di verificare la situazione anche dal punto di vista termico in un periodo come questo e che può fornire sicuramente degli spunti interessanti va bene grazie grazie Alessia per la domanda adesso passiamo alla domanda di Francesco Albertinelli sì buongiorno mi sentite? sì sì ti vediamo ok allora lei ha parlato di come i materiali utilizzati per la costruzione urbana contribuiscono ad aumentare queste isole di calore quindi è possibile diminuire queste temperature utilizzando meno materiali riflettenti ed assorbenti sempre al calore e come scegliere questi materiali inoltre tutto questo può essere migliorato con i bonus che ultimamente ci forniscono ci fornisce lo Stato come ad esempio quello del 110% e quali sono i vantaggi per l'economia per l'ambiente e anche per la salute urbana legate a queste agevolazioni? punti molto interessanti su cui però credo che meglio di voi architetti non ci sia nessuno cioè nel senso sulla scelta dei materiali sulle caratteristiche dei materiali credo che su questo ci sia veramente tantissimo però diciamo non diciamo non mi sento nelle condizioni di poter spendere tanto di più visto che comunque sto parlando con degli architetti con chi si occupa proprio di questi aspetti e che credo abbia tutte le soluzioni migliori per riuscire a proporre soluzioni innovative che possano andare anche nella direzione a cui facevi riferimento cioè quella dell'utilizzare questi contributi che ha messo sul piatto anche il il governo le soluzioni credo ci siano il problema e capire poi anche quanto questi contributi messi a disposizione poi riescono in concreto a trasformarsi in operazioni che poi anche il comune cittadino che vive in un condominio può provare a mettere in pratica perché mi sembra un pochino così d'aver capito che comunque poi ci sono tante limitazioni e che spesso magari poi scoraggiano anche il comune cittadino che cerca di che vorrebbe fare qualcosa però poi in realtà ci sono dei paletti dei vincoli che ti portano a poter fare alcune cose ma non tutte e quindi diciamo diventa un po' più problematico però il motivo a cui si faceva il discorso si faceva riferimento prima cioè la necessità di avere dei gruppi interdisciplinari ricade proprio in questo cioè il fatto che è fondamentale la figura dell'architetto del pianificatore dell'urbanista che può che poi è quello che nel concreto operativamente poi è pegnato sul campo e che progetta programma decide il tipo di materiale da utilizzare sulla base anche di dati di informazioni che possono essere utili sulla base degli studi che anche abbiamo mostrato in precedenza cioè sulle zone su cui può essere prioritario effettuare degli interventi e lì sulla base delle competenze di vari professionisti decidere poi le strategie migliori ok grazie 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 francesco per la domanda siamo all'una ma abbiamo altre due domande quindi velocemente cerchiamo di rispondere ad entrambe serida battista se vuoi venire sì sì eccomi mi vedete sì sì allora io avevo una considerazione ed una domanda però faccio velocemente allora lei nella prima parte della lezione aveva parlato di come l'orientamento degli edifici e come il distanziamento tra un edificio e un altro il rapporto con la sua altezza e il fattore dello sky view influenzino appunto l'isola di calore e quindi in base anche agli studi in relazione a quella che sarà a quello che sarà l'innalzamento delle temperature future e quindi come nei prossimi anni si verificheranno degli innalzamenti a livello di temperature appunto dovuti a azioni in precedenza ma che se non appunto contrastiamo andranno a peggiorare causando azioni note come scioglimento degli acciai acidificazione degli oceani quindi innalzamento di questi eccetera ecco la domanda che volevo porle è in base anche a questa considerazione andare poi a sviluppare delle azioni di contrasto e degli sviluppi anche in linea alle avanguardie digitali e abbiamo visto come una delle future appunto avanguardie sarà proprio le città saranno proprio le città intelligenti e come queste possono dialogare con delle eventuali isole di calore cioè mi spiego meglio come queste isole di calore possono essere contrastate o addirittura prevenirle nell'ambito dello sviluppo delle città intelligenti e se secondo lei possono essere emesse nella stessa tra virgolette linea d'onda questo sviluppo delle smart city con con questo fenomeno appunto dell'isola di calore si oltretutto a fine lezione ha parlato anche di un software che è software Envyment ecco se appunto ci sono delle soluzioni oltre questo software se si stanno già studiando ecco questo guarda ora di software si ci sono appunto avevo citato il software Envyment c'è il software i3 ce ne sono anche altri hanno lo svantaggio purtroppo di non essere degli open source dei software open source e quindi di essere diciamo adatti poi anche per delle analisi che purtroppo poi non sono replicabili perché o comunque non sono facilmente riproducibili perché bisogna avere delle licenze che sono anche molto costose oltretutto sono utilissimi perché permettono di fare delle simulazioni prima e dopo un ipotetico intervento e quindi che permettono di capire delle dinamiche legate ad aspetti appunto come quella a cui facevi riferimento come l'orientamento delle strade che è fondamentale oppure le caratteristiche anche proprio delle strade quindi l'aspect ratio determinato dall'altezza degli edifici dalla larghezza delle strade e tutto quindi permettono di fare queste simulazioni sono simulazioni altrutto molto dispendiose in termini di tempo e tant'è vero le aree su cui diciamo si possono fare queste simulazioni poi richiedono più e grande l'aria anche dei calcolatori molto potenti perché ci stiamo cimentando proprio in questo periodo stiamo avendo delle difficoltà proprio per i tempi di calcolo i tempi macchia però forniscono delle informazioni molto utili appunto per prevedere ciò che potrebbe verificarsi in conseguenza di tutta una serie di interventi che vengono programmati detto questo quindi diciamo gli strumenti sono questi o poco più però credo che si debba fare molto più che altro anche per rendere open questi strumenti in modo che poi io lo guardo molto anche ne so dal punto di vista statistico grossi passi sono stati fatti quando sono entrati in gioco altri software come R che comunque è open e quindi viene implementato in continuazione e quindi la comunità scientifica ha iniziato a contribuire tantissimo all'utilizzo di questi strumenti statistici lo stesso andrebbe fatto con questi tool che servono poi appunto per la progettazione indirizzata alla progettazione che se fossero aperti sicuramente avrebbero un progresso molto più rapido e il fatto poi di come sulla base dei risultati ottenuti le informazioni possano essere poi implementate anche con aspetti tecnologici digitali questo è un qualcosa secondo me un po' più futuristico su cui inizia a esserci una importante sensibilizzazione però diciamo su cui bisogna ancora lavorare lavorare parecchio però mi vengono in mente poi diciamo delle idee ma io immagino anche a delle soluzioni per esempio anche sensoristica posizionata in determinate zone della città mi riferisco che ne so anche alle fermate di tram oppure altre situazioni dove automaticamente al raggiungimento di certe condizioni vengano messe in automatico in pratica delle soluzioni che possano dare sollievo per esempio a chi si trova in quelle zone e quindi immagino che ne so a soluzioni ombreggianti che si possono che possono essere messe in atto in determinate situazioni oppure anche a diffusori di acqua potrebbero esserci diciamo diverse soluzioni che integrate con soluzioni tecnologiche quindi con anche banalmente con i nostri dispositivi mobile riescano a attivare una serie di procedure che appunto possano andare ad aiutare nel processo di in questo caso di adattamento per contrastare il fenomeno nel momento in cui si verifica però ecco diciamo su questo è tutto da fare però è interessantissimo quello su cui diciamo bisogna poi convergere molti degli sforzi per cercare poi di migliorare il più possibile la situazione va bene la ringrazio grazie Selida passiamo all'ultima domanda questa è un'incursione di Benedetta De Dominicis una nostra laureanda che ha seguito la conferenza e si sta occupando nella sua tesi di laurea anche di analisi climatiche con un progetto in collaborazione con lo Uav di Venezia quindi Benedetta siamo curiosi di sentire la tua domanda grazie mille Lorenzo brevemente nella mia tesi che avrà come soggetto di analisi l'area pescaresi ho individuato due impatti quindi l'isola di calore urbana e l'allagamento per piogge intense quindi il risvolto sarà quello di avere come risultato dove questi impatti si manifestano maggiormente per poi procedere con un progetto di adattamento per cui le volevo chiedere in che modo posso replicare la sua analisi ed ottenere l'elaborato cartografico dell'Albedo perché ho un po' paragonato il mio workflow di lavoro con il suo e quindi ho tenuto conto di questo aspetto e mi sono domandata come posso replicare io questo elaborato cartografico e la seconda domanda se ha utilizzato nelle sue ricerche anche il dato fornito da Sentinel o non lo ha fatto perché è troppo recente no no allora il dato interessantissimo e complimenti anche per il lavoro che stai facendo attualissimo allora il dato Sentinel si è stato utilizzato più che altro anche per classificare vari layer come l'NDVI abbiamo utilizzato il Sentinel 2 abbiamo Sentinel 1 e Sentinel 2 sono stati utilizzati anche per il consumo di suolo per quanto riguarda facevi riferimento all'Albedo in particolare giusto per quanto riguarda l'Albedo noi abbiamo utilizzato il Sentinel 2 e quindi la fonte è quella dell'European Space Agency quindi con la risoluzione a 10 metri e in realtà ora per delle simulazioni che stiamo facendo e che vogliamo fare appunto con EnvyMet calcolavamo anche l'aspect ratio però da esperienze anche fatte da altri colleghi quello dell'utilizzare i dati Sentinel 2 sembra essere quello più affidabile il problema è soltanto legato al fatto di quando tu calcoli il parametro dell'Albedo e cioè in quale periodo dell'anno anche lo calcoli nel senso ci siamo resi conto che il periodo migliore per fare delle stime di Albedo è quello estivo per quel discorso che ti facevo che avevo fatto anche un po' nell'ambito della presentazione cioè il fatto che ci si riferisce al principio lambertiano per cui diciamo l'emissività è praticamente uniforme e ci sono dei lavori fatti molto interessante da Bonafoni in particolare proprio su questo sull'Albedo che ha lavorato parecchio su questo aspetto in cui appunto si dimostra che quando l'elevazione solare è superiore a 25 30 gradi l'effetto legato all'arugosità è praticamente trascurabile e nel nostro caso per le immagini che abbiamo utilizzato noi soprattutto durante il periodo estivo stiamo ampiamente oltre questo livello per cui questo approccio può essere diciamo è robusto ed è affidabile nel caso in cui tu andassi a lavorare in situazioni dove effettivamente l'angolo solare è particolarmente basso se lavori su una città del nord Europa o in un periodo dell'anno in cui anche da noi l'angolo di elevazione solare può essere già inferiore ai 20 gradi come si verifica durante il periodo invernale in alcuni orari e in quel caso lì bisogna pensare anche ad approcci diversi però motivo poi per cui anche noi ci siamo concentrati molto sulla stima dell'albedo effettuata utilizzando la disentinel però durante il periodo estivo perché ci dà maggiore robustezza comunque molto interessante e anzi mi farebbe piacere anche approfondire ma possiamo farlo anche grazie mille grazie la settimana prossima incontrerò anche in un'altra conferenza il dottor Munafo che ho visto citato in parecchi articoli benissimo benissimo Michele con lui lavoriamo tantissimo quindi mi fa molto piacere la stai facendo proprio con lui? no 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 io la sto facendo con il profusero e il professor Danis Maragno e Danis Maragno mi darà anche l'opportunità appunto di conoscere il dottor Munafo quindi tutti i collegamenti molto interessanti molto utili ti fa molto piacere se poi mi aggiornerai un po' sull'evoluzione della tesi mi farà piacere a prescindere proprio per deformazione professionale però bene è in bocca al lupo allora grazie certo certo anzi Marco siamo contenti se avrai voglia di essere aggiornato e darci un tuo commento sul prosieguo della tesi delle tesi che stiamo seguendo bene allora l'abbiamo sforato ma di poco ringrazio il ricercatore Marco Morabito per le due conferenze che ha tenuto e anche soprattutto per la disponibilità a rispondere alle domande dei nostri studenti è stata la parte più complicata lo so lo so mi verrebbe da dirti che la prossima volta che ti inviteremo tu sai che ti attende un'ora di lezione ma due ore di risposta ma è la parte più allenante però devo dire perché sono poi alla fine anche escan fuori i concetti più importanti più concreti e sono quelli poi cioè ci pongono immediatamente davanti al problema reale concreto che è quello che appunto poi bisogna fare di tutto per risolvere su cui bisogna lavorare perfetto allora io ringrazio Marco Morabito e lascio chiuso i lavori al professor Paolo Fusero ma niente vista l'ora non vogliamo profittare ulteriormente di Marco ci ha fatto molto piacere è stata molto interessante credo che quello che hanno imparato oggi gli studenti al di là dei fattori specifici scientifici che ci hai fatto vedere ma è proprio questa collaborazione questa multidisciplinarietà cioè noi il progetto di architettura il progetto di una città del futuro sarà un progetto complesso molto complesso ma avrà come dire una caratteristica specifica in questa multidisciplinarietà quindi tu sei uno scienziato stai spendendo questa fase nella tua vita di ricerca su questo tema importante le isole del calore e noi apprendiamo da te tutta una serie di considerazioni e poi cerchiamo di metterle in pratica nelle nostre operazioni di progettazione della città l'interazione fra il tuo sapere e la nostra capacità di porre in essere azioni risolutive sta diciamo nel risultato nel raggiungimento dell'obiettivo di avere delle città come dire più salubri più sostenibili e quindi un futuro del nostro pianeta diverso da quello che succederebbe se io e te e se noi e te non collaborassimo quindi ancora un grazie io direi di salutare Marco venendo in video tutti quelli che riescono a farlo credo che Teams abbia un limite di venuta in video però non importa facciamolo e poi gli altri casomai anche a voce lo ringraziamo quindi vi invito tutti gli studenti che riescono a venire in video so che c'è un numero minimo un numero limitato diciamo da Teams ma gli altri invece semplicemente rinvolgiamo al nostro graditissimo relatore i nostri ringraziamenti per la giornata di oggi ancora grazie Marco vi ringrazio tantissimo siete stati veramente iperospitali mi avete dato una grande opportunità appunto per soprattutto per condividere quanto stiamo facendo e condividerlo con voi per me è un grandissimo onore perché poi siete quelli che concretamente operate sul campo e un'ultima cosa perché appunto probabilmente c'erano anche altri studenti o altre persone che volevano fare interventi rimango disponibilissimo anche per successivi chiarimenti o semplicemente confronti il mio indirizzo email tanto lo avete tutti anche semplicemente per confronto per consultazione o per aggiornamenti vari quindi grazie ancora per questa opportunità che mi avete dato grazie Marco grazie Marco ciao a tutti buon appetito e buon fine e buon pranzo buongiorno anche a voi arrivederci 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 ciao ciao